Ehi ragazzi, grazie del passaggio perché se oggi non era per voi io non sapevo come arrivare in ufficio Simone mi ha chiamato stamattina presto, mi ha telefonato, ha detto che stava malato, che non poteva venire Ma come mai? Che cosa aveva? Non lo so che cosa aveva, io in tutta vera sincerità ieri l'ho visto in mensa, stava condendo Ma si è affreddato? Un pochetto, sta dicendo ieri l'ho visto in mensa, stava tranquillo, stava condendo E di che cosa? Di che cosa aveva? Di che cosa era contento, Simone? No, no, contento, contento Eh, contento? Di che? Contento, gerundio, condire, stava contento, stava al banchetto dei condimenti, olio, aceto, stava contento, l'insalata, contento E allora come dite voi? Contento Stava contento Stava contento, ho capito, stava contento, che tu c'hai un po' questa cosa No, 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 stava contento Ah, ho capito E quindi poi stamattina? E niente, stamattina, prestissimo, mi ha chiamato, mi ha telefonato In realtà dalla voce non è che si direbbe molto Stava contento Cioè Forse non a te Eh sì, dalla voce almeno ti posso dire io Sembrava Ma ti c'hai se fai colazione con l'olio? Questo uomo è un insalato praticamente No Dice che stavale Stava contento, stava contento Gaio, felice Stava contento Stavolta era contento Mamma mia Contento, contento A parla bene Contento Contento Ma di dove sei io? In che senso? Originario proprio, dove sei nato? Condursi terme Vengo a prenderti alle sette e mezza Non farmi aspettare Dice che sono Ti 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 Ti